buongiorno e benvenuti a il consueto appuntamento con perché ti alzi al mattino versione on air oggi ho il piacere e l'onore di essere qui con roberto galdoni specialist di comau spa buongiorno roberto e ho il piacere anche di essere qui con il signor roberto brambilla invece titolare di sisco data computer srl non anticipo e svelo niente dei nostri ospiti perché prima di tutto c'è la sigla allora roberto roberto galdoni chiedo perché oggi abbiamo due roberto chissà cosa significa poi vi però magari se lo sapete dovreste saperlo qual è il significato del vostro nome del nome roberto magari qualcuno di voi ha voglia di dircelo è una domanda inaspettata questa e dall'altra parte però come dire chiedo subito a roberto galdoni che appunto lavora per comau spa e che di cosa ti occupi e quindi il tuo ruolo e come è nato il rapporto sta appunto andando molto bene con il signor brambilla e la sua azienda si scodata prego benissimo io mi occupo della vendita di soluzioni di automazioni robotizzate e altri device di automazione per appunto comau segue prevalentemente il mercato italiano e sono anche il commerciale di riferimento per la sisco data e quindi dell'ingegner brambilla lo supporto da un punto di vista prevalentemente commerciale ecco nella sua quotidianità roberto come signor brambilla come come a roberto galdoni com'è andata la vostra il vostro incontro quindi lo chiedo a lei com'è andata l'incontro è stata un'avventura nel senso che ci siamo trovati su in montagna come incontro eravamo tutti e due all'alpe di si usi ero in in mezzo a un prato lì sul sul sulla sulla montagna e ci siamo incontrati ci eravamo già visti in un meeting io l'ho guardato detto ma lo conosco non lo conosco e lui mi fa brambilla allora ho capito che era della coma ok avete diciamo una e così è incominciata una collaborazione ho capito in realtà siamo in collaborazione da quasi 25 anni dall'altro secolo diciamo roberto e io prima o così ho chiesto cosa significa il vostro cosa cosa significa il nome roberto ve lo siete mai posti io l'ho guardato è un nome di origine tedesca germanica medioevale e dovrebbe essere splendente di gloria qualcosa del genere ecco quindi diciamo che assieme siete splendiamo brillanti la luce la sua webcam ce ce lo ce lo fa immaginare no beh ma dovete raccontarci quali cose pazzesche fatte per le aziende perché io ho visto delle immagini video cioè voi siete nella robotica nell'automazione e però realizzate veramente questa binata tra queste due grandi aziende molto innovative se date chiave in mano delle soluzioni per l'automazione industriale per le aziende che creano giusto che creano e aziende che producono in italia prego goldoni effettivamente noi insieme comamo insieme ai suoi integratori nel caso specifico sisco data portiamo spesso avanti dei progetti in cui il cliente finale come alcune immagini che riusciamo a vedere adesso ci chiede di automatizzare e movimentare la loro merce e grazie alla collaborazione con sisco data nel caso specifico riusciamo spesso a offrire delle soluzioni di automazioni che poi consentono anche di avere degli effettivi vantaggi da un punto di vista produttivo e tecnico per il cliente finale quindi sisco data sicuramente a un partner affidabile del quale ho col quale abbiamo diversi progetti aperti e quindi sono sono molto contento di questa collaborazione ecco signor brambilla e le aziende italiane come apprezzano e valutano il vostro servizio quello che che realizzate che apportate in termini di miglioramento velocità che cosa apprezzano di più beh diciamo che il concetto dell'azienda italiana è sempre stato quello ormai da io lavoro da 40 e passa anni la nostra azienda c'è più di 40 anni l'azienda italiana ha sempre cercato l'automazione perché abbiamo sempre avuto dei problemi di costo del lavoro forte e quindi essendo la situazione quella che è cercavano sempre di avere macchine che producevano più forte velocemente e con maggior produttività diciamo senza intervento manuale il risultato è che c'è stato un grosso aumento dell'automazione e nello stesso tempo entrando la robotica chiaramente molte cose che prima non si riuscivano a fare come velocità a mano oggi sono possibili soprattutto si riescono a vedere anche delle automazioni di tipo semplice che si possono mettere in in funzione in poco tempo si scodata dal suo canto è sempre stata un'azienda è versata verso l'estero e quindi attualmente l'ottanta per cento dei nostri clienti all'estero e anche per questo diciamo il fatto di avere una situazione come quella attuale del coronavirus incide relativamente perché abbiamo essendo all'estero dobbiamo sempre viaggiare via web o via vari sistemi elettronici diciamo certo e quando ancora si poteva andare nelle fiere io ho conosciuto e ho visto ho toccato con mano con mao non so se vogliamo dire il progetto della meite no con l'esoskeleton che è una cosa che invece va a supporto ad agevolare e la manualità e l'affaticamento di chi invece è in linea di produzione cioè la persona non so roberto se vuoi roberto caldoni si vuoi sì 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 esattamente esattamente così come detto è uno strumento è uno strumento di supporto per consentire all'operatore che deve stare spesso con braccia in alto piuttosto immaginiamo il classico operatore sotto la scocca dell'autovettura piuttosto che altre tipologie d'applicazione come quello va a supportare a defaticare l'attività del muscolo delle spalle in modo particolare dell'operatore questo fa sì che appunto a fine giornata diciamo l'operatore sia un po un po meno stanco ecco diciamo che il meite non fa tutto da solo però aiuta parecchio l'operatore ok e signor brambilla invece è questo tipo di prodotto tecnologico è comunque secondario o vede che c'è un interesse importante no no automazione sì è un accessorio a lato diciamo come un accessorio a lato la gv che ha fatto comau e che distingue un po comau nel campo dei produttori di robotica come possono essere fanook oppure abb oppure cucca attualmente il discorso è che il questo questi due oggetti come la gv come come il meita aiutano a a introdurre l'oggetto e l'automazione robotica nelle aziende nel senso che magari si entra con un con un esoscheletro e poi la gente dice beh ma però si potrebbe anche fare totalmente automatico il problema delle aziende italiane è sempre quello di essere poco essendo aziende piccole medie perché voi sapete che la maggior parte delle aziende italiane sono piccole medie industrie quindi sono ancora a tipo familiare come d'altra parte anche sisco data e e quindi sono in genere rispetto a un'azienda americana voglio dire o altro genere sotto capitalizzate quindi per investire fanno fatica purtroppo abbiamo un governo che non ci aiuta da questo bisogna dire la verità e arrivano briciole e chiedo chiedo a roberto galdoni e proprio in questo periodo storico molto particolare dove in qualche modo ci stanno dicendo state distanti no state a casa state e però è importante proprio anche nel tuo ruolo no è importante invece farci farsi sentire vicini e quindi comau anche tu personalmente come vi state relazionando a distanza o come che pratiche state utilizzando per far sentire vicino eh l'azienda e la insomma il supporto che che tattiche che strumenti utilizzate anche con lo stesso signor brambilla certo certo allora diciamo che ehm la situazione chiaramente non aiuta però fortunatamente la tecnologia ci viene ci viene ci viene ci viene d'aiuto eh grazie anche al nostro reparto marketing abbiamo diverse attività in corso tra cui newsletter di riferimento nel mercato dell'automazione così come i vari eh articoli su riviste specializzate ehm sono stati organizzati e verranno organizzati teoriamente dei podcast così come vengono utilizzate per esempio delle digitali mail marketing questo lato marketing fatto a livello centrale per quanto riguarda direttamente a me oltre al classico eh storico telefono quindi la classica telefonata al cliente eh oppure l'email ad oggi ci sono altri strumenti come possono essere whatsapp piuttosto che le videoconferenze che mi aiutano a mantenere la relazione con i nostri partner e sfrutto io per esempio personalmente sfrutto anche molto LinkedIn LinkedIn per esempio per eh trovare nuovi contatti e investire nuove relazioni ecco e signor Brambilla ehm come come vede il diciamo il anche il il futuro del dell'automazione industriale eh in Italia anche dopo questo periodo? Eh abbiamo qualche difficoltà perché come le accennavo noi abbiamo lavoriamo per l'ottanta per cento con l'estero e quindi abbiamo delle difficoltà a proprio a fare i sopralluoghi perché noi lavoriamo un livello più sul terreno rispetto a quello che fa eh Galdoni il lui eh è più alla vendita noi dopo dopo dobbiamo andare sul terreno a vedere la situazione reale del cliente il problema eh è che adesso è difficile andare da un cliente praticamente non si può e non si può soprattutto all'estero perché dopo la mettono 15 giorni o più in quarantena e quindi capisce anche lei che per esempio se vado in Israele non riesco più a tornare indietro e e quindi abbiamo dei problemi e il fatto invece di avere una situazione di tipo ehm sempre avuta di tipo il scambio elettronico da questo punto di vista ci aiuta perché noi mandiamo dei video mandiamo delle delle cose facciamo i disegni delle applicazioni eh facciamo conference call anche oggi pomeriggio per esempio sono un'ora in conference call con un nuovo progetto che abbiamo sviluppato in Inghilterra e chiaramente avevamo degli delle visite presso il cliente ma abbiamo dovuto solo evitare certo poi dopo c'è la quarantena adesso anche in Inghilterra che in questo periodo quindi spesso abbiamo la vista in presentazione via web si modifica lo schema il disegno tutto via Zoom queste piattaforme esatto e quanto difficile è questo da questo lato non ci troviamo molto male anzi il lavoro e chiedo chiedo a Roberto Galdoni in questo periodo eh quanto difficile è effettivamente mh guardare nel lungo periodo nuovi progetti eh perché appunto ci sono delle incombenze da risolvere come l'emergenza coronavirus il fatto che non si possono fare i sopralluoghi il fatto che non ci si possono incontrare no è difficile guardare nel lungo periodo quando ci sono delle cose immediate da risolvere e quindi comunque Comau eh ha dei progetti nonostante no questo momento no se vuoi rispondere sì sì allora sicuramente sicuramente non è non è una una situazione chiaramente facile per diversi motivi eh ciò nonostante c'è la necessità di pensare al futuro in modo diverso eh inevitabilmente rispetto a quello che è stato sino ad oggi però anche eh banalmente eh l'altro giorno discutevo con con un collega un ex collega anche il metodo di vendita eh probabilmente dovrà cambiare un po' eh che non avremo una soluzione per questo virus tanto meno perlomeno eh però è inevitabile se non si guarda al futuro a quel punto allora si resta sempre si resta sempre al palo quindi quello che possiamo fare adesso è cercare di trovare costantemente contatti contatti nuovi e poi sperando nel momento in cui questa situazione sarà risolta sperare di riuscire a coltivare questi contatti e portare avanti opportunità di business eh grazie la nostra rubrica eh si intitola perché ti alzi mattino perché eh la domanda che noi facciamo a tutti gli imprenditori ma non solo gli imprenditori eh perché in qualche modo dove vogliamo eh ispirare con la vostra risposta eh altri imprenditori altre persone che in questo momento magari si sentono più in difficoltà rispetto ad altri momenti e quindi chiedo al signor Brambilla che magari ha a qualche anno più più di me sicuramente e quindi ha anche un po' di maturità di saggezza per dirci eh per il suo motivo no anche oggi domani perché si alza al mattino e fa quello che fa mi alzo al mattino e faccio quello che faccio è una bella domanda eh diciamo che alla mia età eh io sono già in pensione e continuo a lavorare anzi ho aumentato il ritmo di lavoro sfortunatamente eh eh preferisco eh avere occupazione e soprattutto lavoro per passione diciamo che Comao da questo lato del punto di vista ci aiuta molto perché è un'azienda innovativa soprattutto eh è un'azienda che produce in Italia quindi ha un supporto notevole qua in Italia eh fa un ottimo servizio di assistenza e se abbiamo dei problemi e viceversa perché noi siamo sia fornitori che che compratori loro eh questo ci aiuta moltissimo e diciamo che dal mio punto di vista ogni giorno è una sfida eh per esempio spesso spesso una volta all'anno accettiamo degli impianti che sono un po' al limite della tecnologia perché io sono un ex CNR eh fisico nucleare e quindi mi eh interessa mi è sempre interessato introdurre nuove tecnologie nuove nuove procedure in questo caso eh per esempio studiamo nuovi eh materiali per eh le pinze robotiche abbiamo fatto delle cose in fibra di carbonio in questo momento stiamo facendo degli impianti per le famose mascherine che non si riescono a avere e eh diciamo eh abbiamo dovuto studiare delle nuove pinze basate su dei nuovi principi per riuscire a prendere il materiale perché ehm diciamo i tessuti della mascherina vista così in televisione sembrano tutti uguali in realtà non lo sono ci sono diversi strati eh materiali fatti in un certo modo quelle fatte bene per filtrare altri le fanno con la carta eh del Kleenex eh ma diciamo quelle fatte bene sono fatte con determinate tecnologie e non tutti i materiali si riescono a prendere a movimentare nello stesso modo eccetera eccetera e inoltre ci sono dei problemi per esempio di velocità eh problemi di presa ci sono dei materiali per esempio le faccio un esempio per ehm materiali per i blindati i carri armati in Israele bisogna sollevare il vetro però se si tocca il vetro e il film sottilissimo che c'è tra un vetro e l'altro per fare il vetro blindato rimangono le macchie anche con delle ventose di di silicone di un certo tipo eccetera eccetera e quindi bisogna utilizzare delle tecnologie eh sofisticate oppure per esempio per le lenti degli occhiali eh se si toccano con le ventose rimangono dei segni su sulla lente e noi abbiamo come cliente Zeiss per esempio e abbiamo dovuto studiare insieme a Comau ehm dei delle apposite pinze per sollevare le lenti senza lasciare questo marchio eccetera Roberto Galdoni eh hai un pozzo di scienza dall'altra parte cioè puoi solo che eh cogliere assolutamente perché effettivamente ciò che spinge il signor Brambilla eh è pura voglia di contribuire eh con la sua conoscenza con la sua curiosità alle tecnologie produzione ma non solo insomma veramente un un sapere da da portare a casa come dire eh quindi adesso rivolgo anche a te eh Roberto la domanda no e perché invece tu ti alzi il mattino e porti avanti la tua attività? Guarda io penso che eh ho due parole magiche tra virgolette eh uno è l'amore e l'altro la passione amore e passione per quello che si fa nel quotidiano sono quelle che nel quotidiano appunto mi mi spingono a svegliarmi con sorriso e affrontare la giornata nel miglior modo possibile. Beh grazie quindi eh a a entrambi eh i nostri Roberto che abbiamo capito il bellissimo significato al vostro nome e volete aggiungere qualcos'altro rispetto ai vostri progetti e le vostre attività? Ma adesso direi che eh stiamo orientandosi per per sconfiggere il nemico. Stiamo studiando un nuovo AGV con per per con il vostro con l'AGV di Comau per andare a sanificare come si dice al giorno d'oggi tutti gli ambienti. L'AGV è un'unità mobile che va in giro programmabile di Comau e ponendo dei del delle lampade a raggi ultravioletti e degli spruzzatori atomizzatori nebulizzatori si può fare questo lavoro. Non so se avete già avuto modo è abbastanza pesante tutte le mattine in un'azienda dover andare in giro a disinfettare tutto i bagni mica i bagni le porte e lo si fa per dieci giorni ma dobbiamo pensare che questa situazione continuerà un anno due anni. Adesso poi ho sentito che da Hong Kong sta arrivando un nuovo pandemia per per i topi dai topi questa volta e quindi questa situazione fin quando non risolviamo un problema di fare bene un controllo agli aeroporti secondo me continuerà e Comau in un ambiente tipo un ospedale che va disinfettato tutti i giorni tipo un cinema domani tipo un ristorante eccetera può dare veramente una mano. È un prodotto italiano ripeto non dimentichiamo che dobbiamo ribilanciare ribilanciare il pil. Esatto dobbiamo acquistare i nostri figli i miei nipoti dovranno pagare un sacco. Roberto Galdoni è vero è un progetto molto molto interessante complimenti sì sì sicuramente è un progetto che stessa si scudate con volta e sicuramente è attuale è un progetto attuale quindi io concludo solo dicendo che oltre all'amore e alla passione bisogna mettere anche nel quotidiano del sano ottimismo per riuscire a affrontare ciò che purtroppo il mondo ci sta ci sta portando avanti davanti agli occhi quindi ottimismo e andiamo avanti. Andiamo avanti sì. Ce la faremo. Certo certo e io faccio anche un altro un altro augurio non solo ambienti igienizzati e puliti ma ci auguriamo anche delle menti pulite e igienizzate che così miglioriamo il nostro ambiente quello è più difficile quello è più difficile ci vuole non ci bastano i nebulizzatori no grazie signori è stato un piacere davvero e alla prossima quindi grazie arrivederci a tutti